Cari fratelli e care sorelle, voglio ricordarvi che domani alle ore 10 Telemax trasmetterà una santa messa da me presieduta, nella quale io metto l'intenzione per tutti voi, per le vostre famiglie, per i vostri cari, quelli che sono viventi, pure in momenti di difficoltà e quelli che sono defunti. Ringrazio perciò Telemax di questa opportunità e voglio anche avvisarvi che venerdì prossimo, 27 marzo, a mezzogiorno, mi recherò all'ingresso del cimitero perché quel giorno Papa Francesco vuole che diventi il giorno della preghiera e della misericordia per tutti coloro che in questi giorni muoiono senza nemmeno la possibilità di poter celebrare il funerale e di poter essere accompagnati nel loro ultimo viaggio verso il Signore. Una preghiera per i defunti ma che si estende ovviamente anche ai viventi, alle persone che rimangono qui sulla terra e che stanno soffrendo forse ancora più delle altre occasioni in cui qualcuno muore, proprio perché c'è l'impossibilità di poter elaborare anche questo momento di lutto attraverso la celebrazione del funerale che permette alla comunità di stringersi vicina alle persone che soffrono e permette di affidare come comunità al Signore l'anima delle persone defunte. Quindi vi chiedo di unirvi con me, lo chiedo ai sacerdoti, ai diaconi, lo chiedo a tutti di unirvi con me a mezzogiorno di venerdì prossimo, un po' come abbiamo fatto l'altra sera per il rosario seguito attraverso TV 2000, perché la nostra preghiera unitaria salga al Signore affinché accolga ai defunti e dia coraggio e forza ai viventi.